A causa dello sciopero nell'aeroporto di Francoforte, la salma della missionaria triestina Loredana Vigini non è ancora arrivata in Italia. I funerali, che dovevano essere celebrati stamattina alle 10, nella chiesa San Vincenzo de Paoli per poi proseguire al cimitero di Sant'Anna, sono slittati. La data ancora non è possibile stabilirla, anche se i familiari di Loredana vorrebbero fissare il funerale per martedì prossimo alle 10, sempre nella parrocchia dove Loredana aveva iniziato la sua opera di evangelizzazione. Ma la conferma non sarà data prima di lunedì. Loredana Vigini è morta il 5 febbraio scorso nella periferia di San Paolo in Brasile a seguito di un brutto incidente mentre attraversava la strada. Un rapinatore poi arrestato mentre fuggiva in sella alla propria bicicletta aveva investito la 53enne. La donna cadendo a terra aveva battuto violentemente la testa finendo in stato di coma. Dopo tre giorni la notizia della sua scomparsa. A seguito dei traumi subiti i medici non avevano potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale. Solo la settimana scorsa, venerdì 10 febbraio, era stata celebrata una messa in suffragio ufficiata dal Vescovo Giampaolo Crepaldi alla chiesa di Sant'Antonio.